Vorrei salutare tutte e ciascuna le persone che seguono Telepace, qualche volta andando in giro mi raggiungono i saluti dell'una o dell'altra persona che vede Telepace, vorrei approfittare di questa circostanza per poter mandare a ciascuna una parola di augurio in questo tempo così complicato, ma anche così carico di prospettive, proprio perché il Signore Gesù viene ancora una volta a mezzo a noi.